Facciamo un applauso a questo gruppo, a questo gruppo di Hoppeano. E poi i Tani sarete raddoppiati. Che bello. Vai, vai, vai. Signori, allo spettacolo 2018. A voi. Eccoli qua con la musica. E la accompagniamo con un applauso tutti assieme. Piazza San Seno, un bel applauso. E i Tani di Giorgia. E i Tani di Giorgia. Edizione straordinaria. Interrumpiamo le trasmissioni. Carnevale 2018. Quest'anno la Compagnia dell'Onda festeggia vent'anni di impegno, dedizione, sacrificio e passione. Di più generazioni. Il tutto collegato da un filo conduttore. Sano divertimento allo stato puro. Compagnia dell'Onda. Vent'anni e un sogno che va avanti. Siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Abbiamo un'altra prova. Un'altra prova, signori. Un'altra prova meritato. Ai ragazzi. Tanti chiamati dai ragazzi amico Riccardo. Guardate quanti giovani che ci sono. Siamo noi. Il futuro, il futuro del carnaval, ecco qua. Merry, 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 questo è il carnaval di Marona. Aiutiamoli con le mani, su! Oh, 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 vai, 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 vai con le mani, neanche ci scagliamo, signori. Compagnia dell'Odra, carro numero 13 in concorso. E anche Papa D'Odrago valla con noi, o no? Valla in gli occhi. Allora, soni l'amica qui. E allora! Ehi! Allora! 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 Signore e signore, se questo è stato di vostro gradimento, questo è lo spettacolo che porta in giro quest'anno la compagnia dell'Onopea. Gravitissimo, un applauso grandissimo, meravigliosi, meravigliosi. E come diciamo durante la spirata, divertiti con chi vuoi, con chi vuoi, dove vuoi, l'importante è che ti diverta. Signore e signori, compagnia dell'Onopea, 20 anni, complimenti, un bel applauso signori, se lo meritano.